ciao a tutti raga e ben ritrovati in questo nuovo episodio di battaglia tra mob è da tantissimo tempo che non porto un video su questa serie anche perché come ben sapete sono pochi i mob che possono combattere tra di loro ma visto che dalla versione 1.11 ci sono stati aggiunti nuovi mob tra cui il vindicator che risiede nella mansion vorrei appunto provare qualche scontro ed infatti quest'oggi vedremo combattere il vindicator contro l'iron golem detto questo ragazzi io vi auguro buona visione la battaglia è composta da tre round nel primo scontro vedremo tre vindicator contro un iron golem ed ecco iniziata la battaglia ragazzi i vindicator si lanciano subito velocissimi contro l'iron golem che con due colpi ne uccide uno e siamo già al secondo e uccide anche il terzo quindi questo primo round è vinto dall'iron golem ed eccoci con il secondo round che vede schierati 15 vindicator contro 5 iron golem e anche la seconda battaglia ragazzi è iniziata guardate gli iron golem come si difendono dagli attacchi in massa dei vindicator che armati d'ascia fanno veramente una strage sono rimasti solamente due iron golem forse uno sta morendo ebbene sì però attenzione che non si dà per vinto l'ultimo iron golem e muore all'ultimo e sono rimasti due vindicator vivi quindi questo round se lo giudicano loro ed eccoci all'ultimo scontro di oggi abbiamo 200 vindicator contro 50 iron golem e guardate la massa di vindicator che spinge agli angoli di quest'arena gli iron golem che si stanno difendendo abbastanza bene ma sono in netta difficoltà specialmente per gli attacchi di massa che fanno i vindicator guardate sembra un serpentone di mob che si sposta però devo dire che anche i vindicator non sono messi molto bene perché stanno lavorando abbastanza di gruppo anche gli iron golem ma come potete notare sono stati praticamente decimati completamente questi iron golem e sono rimasti all'incirca una cinquantina di vindicator quindi un quarto di quelli che stavano all'inizio e anche questa battaglia se la giudicano loro ragazzi sono veramente fortissimi bene gente siamo giunti alla conclusione di questo episodio di battaglie tra mob come avete visto il vindicator ha dominato la battaglia specialmente grazie alla sua velocità di attacco per il prossimo appuntamento di questa serie sarete voi a consigliarmi quali mob dovranno scontrarsi tuttavia dovete tenere presente che alcuni di essi non sono stili con altri mob e proprio per questo motivo è più complicato trovare la giusta combinazione in alternativa potremmo anche utilizzare una mod per la versione 1.7.10 che si chiama mutant creatures mod che aggiunge tantissime tipologie di mob lascio a voi la scelta quindi fatemi sapere nei commenti detto questo vi ricordo di lasciare un like se vi è piaciuto il video e di leggere la descrizione dove troverete i miei vari social come telegram facebook instagram eccetera eccetera da giocosporco è tutto e noi ci vediamo al prossimo video ciao a tutti